Se devo dire cos'è per me la poesia, allora dico che è presenza, anima, essenza, è linguaggio della natura, ossimoro che cura, sguardo che evolve, parola che assolve. Sono davvero curioso, affascinato e anche, come dire, emozionato nell'intervistare oggi qui con noi Andrea Grasso che è studente di giurisprudenza, ipovedente dalla nascita e poi diventato non vedente all'età di sei anni. Sono davvero contento di potervelo presentare e di approfondire lo stile di vita che conduce e tutto quello che può in qualche modo insegnarci. Andrea, buongiorno. Quale mai sarà il valore che darà la tua anima o la mia, farmacia della poesia? C'è un'insolita magia, in cerca lungo la via, mollica cade da tovaglia, muore di formica baglia, generosa e molto grata, il fatto l'ha trovata, la tua anima fadata, poesia l'ha risvegliata. Dietro le tue angosce, adesso riconosci la tua diversità, dentro la fragilità. La bella e il calamaio, la formica il formicaio, mentre ti commuovi, la forza tua ritrovi. Se ti affidi fiduciosa, giunge a cura generosa. Buongiorno Francesco, sono Andrea, ho 21 anni, sono al quarto anno di giurisprudenza e rispondo con piacere alle tue domande. Senti Andrea, intanto complimenti per questa scelta della giurisprudenza, ma come mi dicevi prima, la tua aspirazione non è quella di fare l'avvocato, giusto? No, 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 affatto, tutt'altro. E che cosa vuoi fare? Ce lo vuoi dire? La mia aspirazione, il mio desiderio è quello di diventare docente universitario. Spererei qui all'Università di Bologna, perché per me è un ambiente straordinario, davvero molto, molto stimolante, e spero tanto di riuscire a intraprendere un percorso accademico e diventare professore di diritto costituzionale qui all'Università di Bologna. Sono sempre, sempre stato molto affascinato dall'idea di insegnamento, quello che un insegnante può trasmettere con le giuste modalità, con il giusto approccio, con la giusta passione ai suoi studenti. E da quando sono inserito pienamente nel mondo universitario, sono anche molto affascinato dall'ambiente accademico. Quindi queste mie due aspirazioni si vanno a integrare, quindi questo è il percorso che immagino per me, spero di riuscire. Che meraviglia! Senti, Andrea, ma se avessi la bacchetta magica, no? Per così, per gioco, ma magari anche così per magia, riuscissi con un colpetto a spostarci in quel momento in cui sarai già docente nell'Università che ami, con i tuoi studenti, che sei lì a fare lezione. Cosa davvero ti piacerebbe fare? Mi piacerebbe soprattutto trasmettere, oltre il livello didattico, l'ambito didattico che è molto importante, trasmettere davvero la passione per quello che andrò ad insegnare, per quello che sarà il mondo in cui mi muoverò, perché nella mia esperienza sono sempre stato affascinato, attratto, ispirato dai professori, dai docenti universitari, che siano in grado di andare oltre il mero aspetto didattico. Quindi io ho spesso immaginato, è spesso fantastico, su come potrebbe essere il mio ipotetico primo giorno di lezione, e penso che la prima cosa che farei sarebbe condividere con i miei studenti il mio percorso, percorso, condividere il modo in cui sono arrivato a intraprendere questo percorso, e cercare di trasmettere il più possibile la passione per quello che insegnerò, spero che insegnerò, e in generale per il mondo della giurisprudenza. Perché poi, sai, questa è una cosa che penso spesso, il mondo del diritto spesso è relegato quasi ad una dimensione lontana, polverosa, quasi possiamo dire davvero complessa, mentre il mondo del diritto è pieno di sfaccettature che riguardano da vicino la vita di tutti, la vita di tutti noi, e quindi penso che la mia prima aspirazione sarebbe quella di trasmettere la vicinanza del mondo della giurisprudenza, del mondo del diritto, ai miei studenti, quindi alle persone che sono in primo luogo i miei interlocutori. Questo è quello che spererei di fare. E soprattutto vorrei tantissimo indurre le persone che ho di fronte a cercare il confronto, perché secondo me il confronto è il modo più diretto, più efficace per stimolare la propria pubblicità intellettuale, per stimolare la propria crescita intellettuale, e quindi davvero risorterei a fare domande, perché come dice un grande scrittore, non esistono domande stupide, ma solo le risposte possono esserle. Quindi, diciamo, indurrei i miei studenti a porre tante domande, a interrogarsi, a interrogarmi. Questo è così un po' il modo in cui immaginerai il mio approccio con il mondo dell'insegnamento. Adesso, parlando così delle mie aspirazioni e della mia immaginazione. Che bello! Ma mi immagino anch'io questo momento in cui sei in classe, e entri lì, le persone un po' ti vedono, che sei diverso perché hai questa caratteristica di non vedere, quindi per molti può essere un limite, ma credo che per te si sia trasformata in un'opportunità, in una capacità diversa. In che modo questo aspetto è per te limitante, invece in che modo è stimolante? Ottima domanda, domanda molto intelligente, secondo me, perché ho sempre pensato che la risabilità sia davvero, al contempo, un limite, un stimolo, un'opportunità. Perché io ho sempre pensato, ho sempre pensato che la mia condizione, possiamo definirla, sì, la mia caratteristica che mi rende diverso, come dicevi tu poco fa, mi offrà un'opportunità, che è quella di raggiungere obiettivi che possono essere paragonabili a quelli che raggiungono le persone che non devono convivere con questa risabilità, ma soltanto con modalità diverse. Cioè la mia filosofia di vita, il mio pensiero è sempre stato quello di cercare di, appunto, ottenere gli stessi risultati degli altri, semplicemente con modalità diverse. Ho sempre pensato che ogni problema ha la sua soluzione, ogni problema ha la sua opportunità di essere risolto e semplicemente bisogna trovare le strade alternative che permettono effettivamente di risolverlo. Ti faccio un esempio così molto vicino, che mi riguarda in prima persona. Bologna, non so se tu la conosci, è una città estremamente accessibile, estremamente accogliente, stimolante per chi si trova nella mia condizione, per chi ha disabilità visive. Abbiamo i portici che le rendono davvero un luogo sicuro in cui muoversi con assoluta, assoluta sicurezza, tranquillità, un luogo in cui gli spostamenti sono veramente resi agevoli. E quindi nell'ultimo anno mi sto approcciando sempre di più all'uso del bastone, il bastone bianco, per spostarmi, appunto, nella mia città. E questa è una cosa che mi rende veramente felice e orgoglioso, perché anche qui cerco di raggiungere gli stessi risultati degli altri, quindi muormi, spostarmi liberamente, conquistare la mia autonomia, la mia indipendenza, ma con uno strumento diverso. Quindi stessi risultati, modalità diverse. Quindi diciamo che la mia disabilità, sì, che magari nasce effettivamente come un limite, io cerco nella vita quotidiana di renderla uno stimolo mediante l'individuazione di soluzioni alternative, di modalità diverse tramite cui raggiungere comunque i risultati a cui anello, a cui aspiro. Quindi questo è il modo in cui vivo la riservità visiva da sempre, soprattutto adesso che sono qui a Bologna. Come hai scoperto Bologna? Come ho scoperto Bologna? È stata una scoperta davvero fortuita, casuale, perché sin da quando ero molto piccolo, ripetavo sempre che avrei studiato giurisprudenza, sì, però a Catania. Per me questa era una certezza, un chiodo fisso, io sono rimasto a Catania, avrei studiato vicino a casa, per me era una garanzia questa sul mio futuro. Tuttavia, al quinto anno di liceo, si sono incastrate un po' di circostanze, di congiunture, diciamo così, che hanno reso la scelta di Catania un po' meno scontata, un po' meno certa. In particolare, uno dei miei fratelli, noi siamo quattro fratelli gemelli, uno dei miei fratelli ha scelto di intraprendere con me il percorso in giurisprudenza e ha cercato di convincermi, appunto, a lasciare gli orizzonti forse, diciamo, un po' stretti della Sicilia e cercare di intraprendere il nostro percorso in un posto che potesse essere, in primo luogo per me, frutto di maggiori opportunità, di maggiori stimoli. E quindi io conoscevo Bologna perché l'avevo visitata all'occasione di un concerto l'anno precedente e quindi è stata esclusa Catania una scelta quasi naturale. Ho preso contatti con l'università, con Ergo, che è l'azienda che eroga le borse di studio, gli alloggi, io sono in uno studentato. E davvero l'accoglienza che ho trovato qui a Bologna ha reso una scelta quasi scontata quella di venire qui in questa città e sono stato contentissimo della mia decisione. Io sono veramente felice, felicissimo di essere qui a Bologna. Felice, molto. Grazie, grazie Andrea. Mi chiedo se anche tuo fratello è non vedente. No, no, no. Di tutte e quattro io sono l'unico ad avere una forma di disabilità. Diciamo che la nostra storia è un po' particolare. Per quattro gemelli, sai, abbiamo avuto un parto prematuro, siamo stati tanto tempo in incubatrice. Io ho avuto, tra virgolette, la sfortuna di essere l'unico con colori molto chiari, sono biondo, con ragione molto, molto chiara e quindi ho avuto un distacco prematuro di retina appunto appena nato e quindi sono l'unico appunto con la disabilità visiva ma in generale con la forma di disabilità, con i quattro. E questo ti ha fatto sentire svantaggiato rispetto a loro? Diciamo il contrario perché confrontandomi con la realtà di altre persone che vivono la mia stessa situazione mi rendo conto che in molti casi la disabilità visiva diventa un limite nel momento in cui rende precluse molte possibilità a livello di interazione, di confronto, di sviluppo, di dinamiche sociali, di dinamiche relazionali. In molti casi chi è non vedente vive in una realtà diciamo purtroppo ristretta o quantomeno limitata, delimitata, mentre nel mio caso il fatto di essere a stretto contatto con i miei fratelli, persone delle mie stesse età che condividevano le mie stesse esperienze mi ha dato la possibilità di vivere in modo del tutto normale, nel modo del tutto naturale la mia disabilità e in molti casi nemmeno prendendola in seria considerazione ho sempre fatto tutto ciò che hanno fatto i miei fratelli, ho sempre avuto la possibilità di non pormi limiti in tema di frequentazioni, amici, uscite, relazioni grazie proprio ai miei fratelli. Quindi diciamo dalla loro vicinanza non l'ho vissuta come un elemento di svantaggio tutt'al più piuttosto come un elemento di stimolo, un elemento che mi ha dato molte più possibilità rispetto a quelle che avrei potuto avere senza la loro vicinanza. Che cos'è l'amicizia per te? Ma per me è un legame che rappresenta ciò che tu sei perché io ho sempre pensato in particolare crescendo, maturando, che ci si circondi di persone, di amici che siano un po' lo specchio di ciò che tu cerchi, di ciò che tu consideri come effettivamente valore. Un mio professore diceva sempre questa frase che è un po' alla massima, asino, asinon frigat, che il latino vuol dire appunto si frequenta chi si riconosce, nel senso che appunto si cerca di circondarsi delle persone che si reputano più affini, più simili. Quindi per me l'amicizia è quel legame che rispecchia ciò che tu sei e ciò che tu cerchi. Come lo scegli un amico? In base a quelli che sono i miei valori fondamentali, i miei valori fondamentali di correttezza, di realtà, di onestà, di sincerità e quando vedo queste caratteristiche in un'altra persona sono chiaramente elementi elettivi per sceglierla come amica. Per me è così, è una questione di affinità, di legame, diciamo così, ecco, di affinità nei valori e nelle dinamiche appunto relazionali e sociali. Per me... Che cos'è l'amore? Questa è una domanda più complessa perché non ho mai avuto una relazione, una relazione stabile, quindi, diciamo, posso rispondere a livello ipotetico non sulla base di quello che per me effettivamente ha rappresentato, ma di quello che potrebbe rappresentare. Per me possiamo definirlo come uno step successivo rispetto all'amicizia, sempre parte da quella ricerca fondamentale dei valori, dei principi che tu consideri come essenziali, come fondanti appunto della tua personalità, che però va a un livello successivo di condivisione, un livello di condivisione ancora più stretto, ancora più forte, ancora maggiore. Quindi, secondo me, l'amore si traduce proprio in quei legami di condivisione, di affinità estrema, veramente molto, molto forte, molto stretta. Cosa ti commuove, Andrea? Mi commuovono soprattutto storie, dinamiche, esperienze, realtà, semplici, però, appunto, efficaci nel loro raccontarsi, nel loro esprimersi e nel rappresentare qualcosa di efficace, cioè un'immagine forte. Ti faccio un esempio, quest'estate sono stata a Sorrento con alcuni amici in Costina con Fitana e ho visitato Positano e il giorno in cui sono stato lì, a visitare la spiata di Positano e mi sono imbattuto in una storia molto particolare, molto bella. Un signore con una gamba sola, quindi affetto da questa disabilità motoria, ha percorso a nuoto la distanza da Capri a Positano appunto per lanciare un messaggio, un messaggio forte, un messaggio da un lato di speranza, dall'altro di critica nei confronti delle istituzioni che in molti casi si girano dall'altra parte guardando la disabilità e infatti il suo slogan era la disabilità è negli occhi di chi guarda. Quindi diciamo che ciò che più mi commuove è una storia che possa rappresentare, esprimere un'immagine forte, efficace, significativa. Qual è il tuo sogno? Il mio sogno oltre a quello che ti dicevo poco fa in ambito lavorativo è da sempre quello di riuscire a dare un significato che vada oltre il mero ambito diciamo professionale dal mio percorso di vita al mio percorso anche lavorativo. Cioè io vorrei riuscire a realizzarmi nella misura in cui per me è realizzazione non significa solo fare ciò che per me può essere frutto di una scelta efficace in ambito lavorativo in ambito appunto della mia vita ma qualcosa che mi permetta di dire ho fatto qualcosa che ha fatto la differenza ho fatto qualcosa che mi ha permesso di dare veramente il mio contributo a ciò che per me è importante a ciò in cui io credo. Quindi diciamo cercare di aspirare a realizzarmi non solo in ambito professionale e in ambito lavorativo ma qualcosa che vada un po' oltre avere la possibilità di sentirmi realizzato nelle misure in cui faccio un po' la differenza in qualcosa che per me è veramente importante. Ti faccio anche qui un altro esempio io sono un donatore donatore di sangue iscritto all'ATMO l'ATMO è l'associazione Donatori di Mio Lossio che opera in Italia e in molti altri paesi del mondo e da sempre io sono stato molto attivo in questo ambito infatti a Siracusa faccio parte del gruppo di volontari che si occupano dell'ATMO e mi piacerebbe tantissimo riuscire a fare in questo ambito un ambito per me molto importante un ambito in cui c'è veramente in gioco la vita di altre persone la differenza riuscire davvero a poter trasmettere alle persone questo messaggio un messaggio così importante che riguarda appunto la donazione il donarsi il donare e quindi poter intervenire laddove il mio contributo possa davvero essere essenziale possa davvero fare la differenza Andrea Caro e sta arrivando la farmacia della poesia perfetto l'aspetto l'aspetto con ansia Andrea Caro giunga a te in questo sistema di parola una colomba una colomba che vola che si posa sul tuo modo di vivere la vita che la guarda con anima candida infinita a te che hai capito che la luna ha valore se c'è il tuo dito a te che hai compreso come tenere l'animo acceso e che sei faro di luce mano che conduce il tuo sguardo interiore e acceso da fulgore e la tua vista che sembra spenta di fatto l'anima rallenta la fa trovare nei luoghi dove si può ancora amare il tuo dono più prezioso il tuo modo di saper essere della vita sposo risiede proprio nel tuo saper guardare ciò che merita di essere strumento utile per camminare per guardare per amare per sognare sappi sempre essere te stesso e amarti in ogni tuo processo perché il dono che tu hai ricevuto è molto superiore a questo limite che sembra essere da te vissuto grazie grazie Francesco grazie a te volevo chiederti che consiglio daresti a chi non ha il dono della vista è scoraggiato vorrebbe vivere una vita ricca come come hai saputo creartela tu ma non trova la forza in se stesso per fare quel passo che gli consenta di entrare in questa logica di vita creativa costruttiva sognante il mio consiglio è quello di partire sempre da una consapevolezza semplice molto efficace secondo me ossia la consapevolezza secondo cui c'è sempre sempre una soluzione una modalità un'alternativa una possibilità io penso che chi si trova nella mia condizione chi si trova in generale a vivere una disabilità che in qualche modo rappresenta una diversità debba sempre tenere presente che ogni diciamo diversità ogni differenza rappresenta comunque un'opportunità nelle misure in cui è possibile perché così è è possibile individuare una modalità una strada un'opportunità tramite cui effettivamente raggiungere il tuo obiettivo raggiungere le proprie aspirazioni raggiungere le proprie effettivamente le proprie intenzioni i propri obiettivi quindi secondo me il consiglio che do è questo non bisogna mai perdere di vista la consapevolezza che le alternative ci sono le possibilità ci sono e le soluzioni basta solo cercarle perché sono sempre a disposizione quindi il mio consiglio è davvero di non fermarsi alle difficoltà non pensare che gli ostacoli siano insurmontabili e non soprattutto ritenere ritenere che le soluzioni non siano trovabili non siano individuabili perché le soluzioni ci sono sempre quindi basta trovarle cosa vuoi dire a chi ha seguito questa intervista a chi segue queste interviste della farmacia della poesia e ha ascoltato la tua sino a questo momento ringrazio innanzitutto per avermi ascoltato e spero davvero che il mio intervento sia stato spunto di riflessione sia stato un momento di arricchimento io ho cercato nel modo più trasparente palese possibile di trasmettermi di rappresentarmi e spero che insomma che il mio modo di rappresentarmi il mio modo di comunicarmi sia stato efficace io sono stato molto molto contento del Francesco della tua proposta ringrazio te ringrazio Tonio Amore per avermi proposto e ringrazio tutti gli ascoltatori per averci seguito per avermi ascoltato Andrea grazie ti auguro una buona giornata e una buona continuazione del tuo percorso universitario ti ringrazio veramente grazie grazie per questa opportunità e per questo spazio di ascolto grazie e buona giornata a tutti allora la forza tua la forza tua ritrovi la bella il calamaio la formica il formicaio mentre ti commuovi la forza tua ritrovi quale mai sarà il valore che darà la tua anima la tua anima farmacia della poesia quale mai sarà il valore che darà la tua anima la tua anima farmacia della poesia quale mai sarà il valore che darà la tua anima alla mia farmacia della poesia di ascolto di ascolto di ascolto di ascolto di ascolto di ascolto Grazie a tutti.